Ciao amici ed eccomi per questo episodio numero 67 del video diario. Qualche anno fa, nel 1991, è uscito un film tratto da un racconto di Steven Spielberg che si chiamava A volte ritornano, un titolo inquietante. Questa stessa frase la usiamo spesso per descrivere il ritorno di fenomeni di solito inquietanti ed è proprio quello che vi vengo a raccontare oggi. Abbiamo infatti assistito in questi giorni a un possibile ritorno di Tangentopoli. Che cos'è Tangentopoli? È quel sistema corrotto che nel 1992 portò alla caduta dei principali partiti politici italiani e ci fece scoprire il segreto di Pulcinella, ovvero che la corruzione purtroppo nel nostro paese era capillare, molto troppo diffusa. Molti sinonimi sono associati al concetto di corruzione, ad esempio le parole Tangente, da cui Tangentopoli, la città o il sistema delle tangenti, e anche e soprattutto bustarelle. Una busta, ci metto dentro una lettera o altre cose, in una bustarella invece ci metto dei soldi che do a una persona che poi mi aiuterà, quindi corrompo qualcuno per ottenere un vantaggio. E purtroppo la storia italiana è veramente segnata da tante, troppe, bustarelle. La bustarella più importante di tutte in assoluto sicuramente è quella che un giorno di febbraio del 1992 viene consegnata in un ufficio a Milano al dirigente di un ospizio, una casa di riposo per anziani, il Pio Albergo Trivulzio. A capo di questa istituzione c'è un socialista milanese, Mario Chiesa, che si becca questa mazzetta, questa tangente, da 7 milioni di lire, tra l'altro una cifra abbastanza trascurabile. La persona che gliela sta dando è un imprenditore che in quella struttura effetto a lavori di pulizia e manutenzione e da anni è costretto a versare questa tangente per poter lavorare. Ma evidentemente si è stancato perché insieme alla mazzetta ha portato anche con sé un registratore nascosto con il quale documenta quello che è successo lì dentro. E così da ciò comincia lo scandalo di Tangentopoli o di Mani Pulite. E dunque Mario Chiesa in un primo momento, questo politico preso con i 7 milioni della bustarella, in un primo momento si rifiuta di dire alcunché, ma dopo un po' capisce che i giudici hanno scavato a fondo. Ebbene, sa che i giudici hanno trovato i suoi conti miliardari in Svizzera e dunque a questo punto canta. Comincia a raccontare quello che sa. E poi così, un po' per liberarsi la coscienza, ma piuttosto credo per evitare il carcere, tutti quelli che vengono inquisiti, numerosi politici, imprenditori, eccetera, cominciano a raccontare quello che sanno. È un vero e proprio tsunami che travolge l'intero sistema politico. E effettivamente non si salva nessuno, tutti i principali partiti di governo sono coinvolti in questo scandalo, democrazia cristiana, partito socialista, in parte anche il partito comunista, come vedremo più avanti. E dunque Mani Pulite rappresenta per noi italiani un momento di speranza nel quale ci illudiamo che qualcosa possa cambiare, che sia il momento di fare un po' di pulizia all'interno del sistema. Al contempo abbiamo però anche la triste conferma a ciò che già sapevamo, ovvero che il sistema politico in Italia era tutto un magna magna che tutti cercano in qualche maniera di arricchirsi. Abbiamo la conferma che una fase è finita l'anno dopo, nella primavera del 1993, quando Bettino Craxi, ex segretario del partito socialista italiano, un tempo potentissimo presidente del Consiglio a metà degli anni Ottanta, viene accolto da una pioggia di monetine e di cittadini indignati che lo aspettano questa volta per gridargli ladro, ladro, vergogna davanti all'hotel Rafael. E con questa pioggia di monetine finisce la cosiddetta prima repubblica, la prima fase della nostra giovane repubblica. Purtroppo però la fase che comincia dopo, la cosiddetta seconda repubblica, con le elezioni del 1994 nelle quali Silvio Berlusconi si fa il suo partito e riesce a dar la bere agli italiani, racconta la favoletta dell'Italia che può essere più ricca e più felice con lui alla guida, ripeto, il secondo episodio è anche peggiore del primo, paradossalmente. E oggi, col senno di poi, guardando un po' indietro, dobbiamo constatare che effettivamente hanno cambiato i nomi ai partiti, sono cambiate per un periodo anche le facce, i più coinvolti in quegli scandali sono scomparsi per un po', ma nel peggior stile, gatto pardo, purtroppo, cambiare tutto affinché nulla cambi. La conferma che non è poi cambiato così tanto, anzi che forse non è cambiato nulla, ce l'abbiamo proprio in questi giorni, ancora una volta con una bustarella. Sono passati 22 anni e la scena è ancora una volta la città di Milano, una strada, Corso Sempione, e qui il 17 di aprile del 2014 vediamo una scena con due distinti signori che chiacchierano tra di loro, forse parlano di affari.